Un colonnello dell'Aisi, i servizi segreti interni, risulta indagato per rivelazione di segreto d'ufficio. Si tratta di Massimo Stellato, capocentro di Padova, che avrebbe rivelato a Domenico Mantuan, ex dirigente della Sanità Veneta e attuale direttore della Genas, di essere intercettato in un'indagine segreta della Procura di Padova. Secondo l'indagine, l'ufficiale avrebbe incontrato Mantuan nel 2020 in provincia di Vicenza. All'epoca la Procura Euganea stava indagando su presunti illeciti legati alla sanità locale, Il fascicolo, che aveva dato l'avvio alle intercettazioni anche di Mantuan, alla fine non riscontrò alcun reato e successivamente venne archiviato. Stellato, pochi giorni dopo l'incontro a Brendola con Mantuan, aveva anche subito una perquisizione da parte dei carabinieri di Padova allo scopo di accurare chi fosse stata la talpa che lo aveva informato delle indagini in corso.